Il progetto Io Ascolto parte da un'idea neuroscientifica che è quella di riuscire a rinforzare i circuiti neurali dell'apprendimento dei bambini nell'età di sviluppo. L'età critica in cui è possibile andare veramente a rinforzare questi circuiti è l'età che va dai 5 ai 7 anni. Quindi questo progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola di infanzia e ai bambini dei primi due anni delle scuole elementari. L'idea è quella di proporre a tutta la classe, appunto a livello scolastico, a livello didattico, dei software specifici per età, quindi saranno divisi per i 5 anni, per i 6 anni e per i 7 anni e in questi software il bambino gioca con delle attività che gli vengono proposte, mentre gioca riceve degli stimoli e deve dare delle risposte adeguate. Questo software è un percorso studiato per durare 13 ore e deve essere proposto dall'insegnante in classe, quindi come attività didattica, una volta la settimana, più o meno nel periodo che va da febbraio a maggio. Che cosa succede? Quando l'insegnante propone queste attività didattiche tutta la classe appunto viene coinvolta perché non vogliamo discriminare nessuno, viene proposto come potenziamento didattico, nel momento in cui ci sono dei bambini che hanno alcune difficoltà, gli si propone attraverso sempre il software degli esercizi specifici per loro, sempre studiati a livello neuroscientifico. Questi esercizi vengono dati però sempre con il format del software, in modo che nessun bambino della classe viene a sapere che effettivamente ci sono dei bambini che stanno facendo degli esercizi differenziati. Questa è una parte del progetto che va a coprire la grande esigenza della didattica inclusiva e cerca di non andare a discriminare nessun bambino che sia in difficoltà.